La focaccia alle cipolle che piace a me è non troppo unta, super cipollosa, morbida sopra e croccante sotto. Prepariamola in casa in circa 3 ore con questa ricetta, ma prima se non l'hai ancora fatto segui molto food! In una ciotola 250 g di acqua, 15 g di lievito di birra fresco e mescoliamo. Uniamo un cucchiaino di miele, facciamo sciogliere e aggiungiamo gradualmente 450 g di farina zero. Continuiamo ad impastare fino a inglobare tutta la farina e aggiungiamo circa 8 g di sale e 2 cucchiai di olio extravergine. Continuiamo ad impastare per circa 10 minuti senza aggiungere altra farina, poi facciamo riposare coperto per 20 minuti. Ora facciamo un giro di pieghe che aiuteranno a dare struttura all'impasto. Prendiamo il panetto e mettiamolo in un contenitore unto con olio, copriamo con pellicola e panno da cucina e facciamo lievitare in forno spento con luce accesa per circa 2 ore. Affettiamo 2 cipolle bianche e aggiungiamo 50 g di acqua e 30 g di olio. Mescoliamo e teniamo da parte. Riprendiamo l'impasto e stendiamolo su una teglia unta con olio e spolverata con semola rimacinata. Aggiungiamo un filo d'olio e estendiamolo con i polpastrelli. Aggiungiamo le cipolle, copriamo con pellicola e facciamo lievitare la focaccia in teglia per un'ora. Ora aggiungiamo un po' di sale in superficie e cuociamo a 200 gradi per 35 minuti o fino a doratura. Ed eccola pronta in tutta la sua bellezza!